Sai che esiste un modo per far sentire la tua voce? Con il questionario sulla valutazione delle attività didattiche hai un'opportunità preziosa per esprimere la tua opinione su ogni insegnamento. Potrai dire la tua su tanti aspetti legati al corso, sul tuo interesse generale, sull'organizzazione, sul docente in completo anonimato. Compilarlo è facile e veloce. Una volta presentato il tuo piano degli studi ed effettuato il pagamento della contribuzione, ti basterà accedere su S3 dal sito dell'università oppure tramite l'app Uniorb Stud, cliccando sulla voce questionario. La compilazione è obbligatoria per ogni singolo insegnamento e ti permette di iscriverti all'appello. La compilazione del questionario è aperta a tutte le studentesse e tutti gli studenti frequentanti e non frequentanti in corso. Semplice e veloce, ecco cosa dovrai fare. Dovrai rispondere ad alcune domande indicando il tuo montaggio di valutazione o, all'interno di domande a campo aperto, scrivere eventuali note e segnalazioni. Le tue risposte saranno in assoluto anonimato. I docenti, infatti, potranno visionare soltanto i risultati complessivi, cioè la somma di tutte le risposte fornite. Tutto chiaro? Non perdere l'occasione di partecipare attivamente alla crescita del nostro Ateneo. Il tuo contributo è fondamentale. Non siamo matricole, ma persone.